Riscattare le sei reti incassate in quattro giorni, tornare a muovere una classifica che rischia di assumere prospettive poco piacevoli e la missione del Biceglie impegnato nella terza trasferta di fila in sette giorni dopo i K.O. contro Catani e Ternana, entrambe con un passivo di 3-0. Tocca a mister Carlo Ricchetti, vice dello squalificato Giovanni Bucaro, fare il punto della situazione in casa Nerazzurra in vista del match di Avellino. I ragazzi si sono allenati relativamente e poi avendo queste partite così ravvicinate diventa veramente complicata la situazione. Per il Biceglie, quello del Partenio Lombardi, con fischio d'inizio mercoledì alle 15, per il recupero della terza giornata di campionato sarà il quarto impegno in dieci giorni. Torna a disposizione dopo il turno di squalifica Musso che potrebbe affiancare Rocco in attacco. Non è da escludere anche un cambio di modulo dopo il ritorno alla difesa a 5 visto a Terni. Ricchetti insiste però più sull'atteggiamento. Giocando queste partite così ravvicinate non si riesce a fare una settimana completa e a lavorare su cose che noi abbiamo bisogno di lavorarci giorno per giorno. Quella a Avellino, squadra sconfitta nell'ultimo turno dalla Virtus Francaville, titolare della miglior difesa del girone C con Bari e Juve Stabia, sarebbe stata una sfida particolare per Bucaro, che ha allenato i Lupi nella stagione 2018-19 portandoli in Serie C e vincendo lo scudetto di Lettanti. Quando non si sta in panchina non bene, non bene perché magari in una maniera o nell'altra si accusa una certa distanza, tra virgolette, però lui lo sappiamo, è di panchina quindi ha voglia di stare in panchina. Sicuramente ci teneva in questa partita come tiene a tutte le altre partite. La so che magari lui è un ambiente che conosce, magari aveva voglia di essere lì in panchina, però ci dà sempre il suo contributo. Proprio sul conto di Bucaro, toccato da sette turni di squalifica dopo il match contro il Catania, si gioca un'altra partita. Il Biceglie ha affidato infatti all'avvocato Cesare Di Cintio il compito di fare ricorso per ottenere la riduzione dello stop per l'allenatore.